Nel 2024 Trieste Trasporti si doterà dei primi autobus elettrici. Uno degli obiettivi di via Broletto è quello di arrivare a metà della flotta, attualmente 276 mezzi alimentate in tal senso. Il presidente dell'ex municipalizzata Maurizio Marzi Vildauer lo ha ribadito stamani, ospite di Tele4, nello spazio che anticipa il telegiornale delle 13 e 20 all'interno del quale si è parlato anche di altro. Trieste Trasporti ha spiegato Marzi e è impegnato su più fronti. Con l'università e il comune si sta procedendo ad una serie di adempimenti che riguardano la mobilità sostenibile. Tutte le aziende pubbliche o private che hanno più di 100 dipendenti sono tenute a elaborare un piano di mobilità a casa lavoro. Quindi noi lo stiamo facendo, lo sta facendo l'università, lo fa il comune, lo deve fare il porto, ma anche una grande azienda privata, ma non so se la ficantiere ha più di 100 dipendenti, ma se ne avesse dovrebbe farlo e lo farà. Devi fare un sondaggio con i lavoratori, chiedere come vengono al lavoro, che mezzi utilizzano, se utilizzano il mezzo pubblico, il mezzo privato, se vengono a piedi, se vengono in motorino, in macchina, eccetera, i tragitti che fanno, gli orari più o meno, a cercare di capire, e in base a quello costruire un piano della mobilità. Quindi, venendo incontro al progetto del sindaco di realizzare un ring attorno al centro storico, Trieste Trasporti prepara a sua volta una serie di valutazioni, anche in questo caso per arrivare ad un progetto che tenga conto di varie realtà. Per quel che concerne le linee, in un futuro che si annuncia assai prossimo, Marzi non ha dubbi. La grande sfida che rientra un po' in questo grande piano di ristrutturazione del servizio, della mobilità urbana, è quella di lavorare sul Portovecchio, per il Portovecchio e nel Portovecchio. In chiusura, Marzi ha introdotto il concetto che si va rafforzando sempre più in numerose località del nostro paese, ma non solo, degli ultimi 100 metri. E anche qui la sfida sembra dietro l'angolo. Pensiamo agli ascensori, pensiamo alle scale mobili, perché la mobilità ti dice, io come ti porto a casa? L'ultimo miglio riguarda i camion, gli autobus, eccetera, ma per il pedone sono gli ultimi 100 metri. Questi ultimi 100 metri possono essere fondamentali, perché io posso portare la signora Pina, ultra 75enne, in autobus da Picina a Triest, ma poi devo portare la casa. Magari quegli ultimi pochi metri sono quelli perché c'è una scala, perché c'è un problema e così via. Ma immaginiamo di inserire qualche ascensore in giro per la città che permetta di fare delle elevazioni, come quello di San Giusto, perché in altre città hanno usato molto le scale mobili per portare le persone più in alto, senza fatica e così via. Quindi c'è tutto un mondo da studiare, da capire, da approfondire che va in questa direzione. Grazie a tutti.